Alla vigilia del Santo Natale, ecco la Basilica di San Pietro, con gli occhi digitali di Italfair, la società di ingegneria del gruppo Ferrovie dello Stato italiane. Per monitorarne tutti gli elementi, svelarne i più minuti dettagli, comprenderne la composizione e raccogliere centinaia di migliaia di dati utili a costruire il gemello digitale della Basilica. Dove l'occhio umano non può arrivare, digitalizzazione, ingegneria, tecnologia e arte si incontrano. E questo grazie all'esperienza del gruppo FS, che in vista del giubileo del 2025 ha offerto il suo contributo per difendere le ricchezze artistiche e architettoniche di San Pietro. Abbiamo messo a disposizione del nostro committente, la fabbrica di San Pietro, tutto il know-how acquisito durante dieci anni di progettazione con modalità digitale di opere ferroviarie. Lì dove Goethe, nel suo viaggio in Italia, rimase sterefatto alla visita di ciò che il ciel sereno riempiva di luce magnifica, oggi Italfair ha messo in campo tutta la sua esperienza decennale per un rilievo geometrico anche con l'uso di laser scanner e georadar. Un delicato lavoro che ha permesso di raccogliere oltre 3,1 terabyte di dati analizzati da complessi software di analisi dei dati. Sarà oggetto di un costante monitoraggio a difesa della sua salvaguardia e integrità.